Credo che sia sempre molto importante guardare al futuro e immaginare come possano servire alcune cose tra qualche anno. Con piacere abbiamo ottenuto finanziamenti della piscina scoperta da realizzare presso Villa Berceto e ci sembrava giusto e corretto cercare l'occasione per unire fisicamente questa struttura sportiva che ha una piscina a tutto quello che è il centro sportivo Cico Mendes. Questo si è reso possibile grazie all'acquisto di 10.000 metri di terreno che uniscono fisicamente il centro sportivo Cico Mendes a Villa Berceto anche se sono divisi da una strada che però è una strada pubblica e quindi questo ci permetterà di realizzare i parcheggi necessari per la piscina, per Villa Berceto, ci permetterà di fare o immaginare dei percorsi vita dal centro sportivo Cico Mendes sino alla piscina per chi vorrà raggiungerla poi a piedi e speriamo di riuscire nei prossimi anni avendoci già i progetti a realizzare una grande foresteria presso il Cico Mendes per utilizzare un centro sportivo che è sempre più apprezzato come fondo, il campo sportivo è ritenuto uno dei fondi migliori della provincia di Parma, Berceto è un paese sempre più noto e famoso, ha un'altitudine ideale per ospitare delle squadre in ritiro di qualsiasi disciplina sportiva. Speriamo anche che vada a buon fine, il progetto che abbiamo presentato al sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri che erano disponibili 500 mila Euro a fondo perduto, sapremo i risultati alla fine di maggio come ci hanno promesso.